So che molti odiano le chat, hanno proprio una repulsione, come già spiegato in un altro video. Il più delle volte è perché in chat, se non hai un metodo collaudato, che noi forniamo e insegniamo, non hai risultati. È abbastanza semplice. Se hai un metodo, hai risultati. Se non hai un metodo, non hai risultati. Su YouTube trovate anche un video che ho fatto tempo fa con un mio studente, che certo non è bello. Io ho chattato col suo profilo e in un pomeriggio abbiamo preso 4, mi pare, o 5 numeri di telefono. Quindi tizio che non ha risultati in chat, dice, ma in chat non mi risponde nessuna. Ma in chat fa schifo, è meglio in live. Le chat servono per spillare soldi. Io non ho mai, ripeto, mai visto un nostro studente rimanere a bocca asciutta in chat. Mai. Oltre all'aspetto live, curiamo anche la parte in chat, che è fondamentale. Siamo i primi in Italia che ci mettono la faccia anche per i percorsi in chat. Io e te ci mettiamo sul pc e ti faccio vedere, ti mostro come con le tue foto, col tuo profilo, si riescono ad ottenere risultati. Se sai, i tasti giusti da toccare. Nessuno propone questo tipo di corso in chat, perché ottenere risultati in chat è molto complesso. E se non è un metodo, offre un prodotto che fondamentalmente non funziona. Dato che molti sono curiosi e ci chiedono anche giornalmente, tramite messaggi privati, delucidazioni in merito al corso di chat. In seguito vi dico ciò che a voi serve per ottenere dei numeri, appuntamenti in chat, che poi è tutto quello su cui ci concentriamo al nostro esclusivo corso di chat. Serve foto adeguate, minimo 3-4. Se metti foto marce, già parti male. Qua non c'entra essere belli, c'entra valorizzare come fanno le donne, con un vestiario e delle pose adeguate, delle foto. Al corso io scatto foto ai ragazzi che non hanno del materiale. Foto belle, che ti valorizzano, dove vieni bene, dove sei sempre tu. Però sei venuto bene e che sono perfette per le chat. Descrizione del tuo profilo. Alla ragazza deve accendersi una lampadina in testa quando legge il tuo profilo. La descrizione del profilo deve invogliare la ragazza a scoprire di più su di te. Se scrivi solo frasi fatte o le solite robe, ciao sono Luigi, sono un ragazzo dolce, carino, cerco una donna seria. Non risponderà nessuna perché le premesse sono marce. Messaggio di partenza, messaggio d'esordio adatto. Su questo argomento ho già fatto diversi video. Impareremo insieme come creare tanti messaggi di partenza adeguati che si discostino dai messaggi che lei è abituata a sentire. Ti facciano cantare veramente fuori dal coro. Parte di conversazione. La conversazione che offre la ragazza è il fulcro di tutto. Se ti areni dopo 5 minuti e incappi nelle solite minchiate che hobby hai, che fai nella vita, di dove sei, quanti anni hai e finisce lì, la ragazza ti molla lì. Sente che non sei in grado di coinvolgerla. Sente che non hai mordente. Avverte che sei come gli altri 120 che le hanno scritto sempre le solite cose. Al corso impareremo a creare conversazioni che tengono incollata la ragazza allo schermo. Perché questo deve essere. Come arrivare ad un numero di telefono. Impareremo a capire quando è arrivato il momento giusto per chiedere Whatsapp. Non al quarto messaggio. Whatsapp è un luogo intimo, se vogliamo. Il numero è un qualcosa che lei non dà a tutti. Prima bisogna passare da una conversazione efficace. Non scordarlo mai. Non è importante che tu sia Brad Pitt. È chiaro che la bellezza può aiutare in chat. Ma se non ce l'hai, pazienza. Il 95% dei nostri studenti non è bello. E ottiene sempre grandi risultati.